Benvenuti in questo nuovo video, io vi lascio direttamente al video vlog delle mie vacanze di Natale e quindi buona visione! Io non vi ho dato il buongiorno, non vi ho dato niente di niente, non vi ho dato gli auguri ragazzi, tanti auguri e buona vigilia a tutti, anche se questo video lo vedrete dopo e quindi, non lo so, sto dicendo buona vigilia così! Stamattina ho riordinato tutto, qui ho messo le luci incolorate e qua invece quelle gialle, comunque maglioncino natalizio, è super bello e super caldo! Saluta! Ciao! Buon Natale! Dove stiamo andando? A cambiare il regalo di Matteo, perché oggi ho sbagliato tutto, cioè ha sbagliato Taglia! Oggi c'è pochissima gente al centro, poca, vero chi è? Finalmente possiamo vedere anche nell'albero, eccolo lì, eccolo qua l'albero, guardate molta gente! Quale carta prendi? Verde! Ok, anche la Tiger è gentice! È incredibile! Quando ti vuoi fare una foto, ma la foto viene di merda, proprio vieneva schifo qua! Eh ma tu insisti e persisti! Raggiungi! E quindi la foto uscirà a fare! Raggiungi, eh! Conquisti, un mega curto sta frase! Sì, vero? Un botto! Poi sono io quella che si fa le foto, eh! Cioè, guardatela! Siamo riuscite a fare quello che dovevamo fare, Chiara! Via tutto, tutto! Beh, Chiara, quasi sta bene la foto, eh! Che belle le luci, il Natale, tutto! Fendi sempre illuminata! Chiara, scappa, se ne va! Chiara, scappa, se ne va! Buon Natale Amici Buon Natale Buongiorno Buon Natale a tutti Sono contentissima Dalla giornata di ieri Di come abbiamo mangiato Tutto quanto Adesso sistemo tutto E mi sistemo anch'io Ragazzi comunque lasciate stare i disordini Sono troppo contenta di aver ricevuto i like E l'ho caricata tutta la notte Ecco qua E bianca come la volevo io Noi stiamo andando in chiesa E io ho messo Il maglioncino rosso Vabbè qua c'è la spazzatura E niente Ci vediamo dopo Questo è il resto dell'outfit Ecco Chiara Eccomi ragazzi di nuovo qua Mia madre mi ha voluto truccare per forza E niente Stiamo andando dai nostri zii E Siamo andati in chiesa Siamo ritornati Ci siamo insomma sistemati E ora andiamo Oddio 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 Ma che pare c'è un'acqua Questa è la camicia Eh la mazza però Se il mammo Sì C'è un'acqua C'è un'acqua E' un'acqua Perché io ho detto Dicono la mazza E dicono Qualcuno è un'acqua E' un'acqua Ancora I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas C'è un mondo Un mondo diverso Ma fatto di sesso E chi vivrà vedrà Siamo ancora qui a giocare Matti saluta il video Ciao Salutate Ciao 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 Sto giocando alla Blade 4 A Crash E niente Mi sto un attimo Esercitando Anche perché io non gioco mai a questi giochi Ma i giochi di guerra Come Call of Duty E Battlefield Basta Io non ce la faccio più Sto Scoppiando Stiamo ritornando a casa Un sonno Troppo Come faccio senza di lui Che poi rilassa tantissimo ragazzi Ciao ragazzi Buongiorno a tutti E buon Santo Stefano Comunque Mi devo sistemare Qui la camera è tutta a posto Qua c'è da levare questi cappotti E ho spazzato Ho aiutato di là E abbiamo Adesso apparecchiamo Ecco qua Questo è tutto L'apparecchiamento Piatti neri per il brodo Vari pociali Due bicchieri E questo è il mio I calici E mi raccomando ragazzi Oggi si mangia il brodo Con i tortellini Non vi inventate nessuna cosa Nessuna scusa Per favore Noi Ehi Chiaro come sta andando 8 No No Guardate Due cartelle Mamma mia 48 Molto in parla Ma io non so che Dai Secondo Pandoro Qua è rimossa una fetta Spremuta E buongiorno Guardate la mia faccia Sono le 10 e mezzo di mattina Eccola qui Ci mettiamo la Vitella fina Adesso facciamo Un taste test Buonissimo Buonissimo Doccia super super Rilassante Mi ha ricaricato e mi ha risvegliato Comunque adesso mi cambio Via Pronta Freschissima Profumatissima È stata una bella doccia Comunque qui Ho acceso il caro Diffusore Io mi sono vestita così Molto sportiva Felpa della fruit Tuta della fruit E Maniglietta della fruit E cappello nuovo Della NFL Lavate Tutte quante Le ho pulite Tutte per bene Guardate Le New Balance Come nuove Praticamente Per quanto riguarda Alessa Smith Ho fatto il più possibile Però le ho pulite Tutte e quattro Questa è stata l'ultima Che l'ho pulita Veramente Veramente Per bene Mi raccomando Fatelo questo lavoro Perché è importante Sui lacci Io li ho puliti Con la varecchina E Poi Li risciacquo E ci metto il bicarbonato Almeno diventano belli Bianchi bianchi Per i lacci neri Invece no Solamente Acqua e sapone Oggi ho provato Le Hitz gialle Dell'Aikos E devo dire Che tra adesso Per ora Tra gialle e arancioni Preferisco le arancioni Adesso continuiamo Con Spartacus Che è la saluta al video Mamma Che quante cartelle hai preso 11 cartelle No 20 centesima Siamo qui All'autolavaggio Di pomeriggio A lavare la nostra macchina Ecco mio fratello Comunque È una delle cose Che mi piace fare in assoluto Cioè Posso definirlo un hobby Andare a lavare la macchina Con mio fratello Comunque Un po' da tattica Mi sono lavata anche i capelli Oggi Quindi super profumati E niente Abbiamo quasi finito Ma Il bello Che noi lo facciamo D'estate Ed è super divertente Ma d'inverno Si gela E fa malissimo Ad esempio Quando passiamo il getto Lì E risciacquiamo È abbastanza Faticoso Dopo tanto tempo Missione compiuta È tutto pulito E questo è il trucco finale Che è buonissimo Ma no È veramente buono Matti saluta il video vlog Yeah Guardate dove sono Ragazzi abbiamo preso Quattro hamburger E sei chicken McNuggets A un euro e cinquanta Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti